Terzo K.O. di fila per la Fidelia Torrenova, ancora secco da quando la guida è passata a coach Maurizio Bartocci. Pesante sconfitta esterna, ieri per i gialloblu, battuti da Vigevano per 76-46 nella quinta giornata della seconda fase di Serie B. Partita senza storia contro la terza forza del campionato, con Torrenova che regge nel solo primo quarto. Non era di certo questa la gara su cui la Fidelia puntava per risalire la classifica, ma certamente è stata una prestazione sotto tono per i ragazzi di coach Bartocci. Non ci sarà tempo per riprendere fiato, però, perché la testa andrà immediatamente all'importante sfida di mercoledì, quando al Palatorre arriverà Olginate, formazione che ha ottenuto solo due successi in più rispetto ai siciliani. Abbiamo fatto tantissima fatica, soprattutto nel secondo quarto, che ci ha fatto un po' uscire fuori dalla partita, quando non siamo riusciti ad avere un minimo di pericolosità. Abbiamo concesso tante cose facili, tante palle perse. La squadra chiaramente era già in difficoltà, perché abbiamo avuto una settimana molto tribolata, già una squadra che non ha tantissimi punti nelle mani, giocare senza Di Viccaro per noi sicuramente è un problema. Abbiamo fatto una settimana dove non siamo mai riusciti a fare un 5 contro 5, perché oltre a Di Viccaro abbiamo avuto fermo sia Lasagni che Galipò, per cui alla fine allenarsi è stato veramente problematico. E questo purtroppo stasera si è evidenziato ancora di più. Una squadra con dei limiti, chiaramente non lavorando insieme, evidenzia ancora di più. questi limiti qui. È chiaro che il nostro obiettivo non è Vigevano, il nostro obiettivo è quello di lavorare in funzione di cui saranno, si spera, i play-out e provare lì a far qualcosa di meglio. Lo scontro in vetta alla classifica premia invece la bacca di Piacenza, che al palafranzante interrompe la striscia di 15 vittori di fila di Agrigento. La Moncada parte male, poi si rifà sotto, dando del filo da torcere ai padroni di casa, ma non riuscendo mai a portarsi avanti nel punteggio. Nell'ultimo quarto, Chiara Stella e Saccaggi suonano la carica, ma è troppo tardi perché Piacenza si stringe in difesa e il big match va alla Bacheri col punteggio di 73-63. Per quanto riguarda le altre siciliane, vittoria importante per Ragusa sul campo di Piadena, mentre perde ancora il Green Basket Palermo, sconfitto da Fiorenzuola per 79-64.